Una partita dai toni agonistici decisamente accesi sin dal primo minuto. Le due squadre avevano entrambe bisogno di fare punti, la squadra di casa per mantenersi ai vertici della classifica. Noi abbiamo ancora bisogno per il proseguo del campionato di fare punti per uscire dalle sabbie mobili degli eventuali play-off. Probabilmente, forse visti toni agonistici, la squadra di casa ha sfruttato il fattore campo, ho visto dei buoni giocatori, un buon gioco. Un unico rammarico, ho notato una fallosità, un po' probabilmente forse ad orologeria, contro un solo giocatore che poi è stato il nostro espulso. Capita sempre più spesso che su tutti i campi dove andiamo a giocare un giocatore che è atteso, perché comunque si è parlato di lui, è un ragazzo, è un under, sta facendo estremamente bene. Ho notato che lo si fermava in maniera troppo fallosa. È caduto nella trappola del fallo di reazione ed è stato, credo, riguarderò le immagini nostre interne, vedrò se è stato giustamente o ingiustamente espulso. Detto questo, la squadra rimasta in dieci ha comunque cercato di imbastire gioco, ha espresso un buon calcio e lì purtroppo ancora una volta l'episodio ci ha punito. Nel momento in cui paradossalmente in dieci riuscivamo ad esprimere gioco, ad imbastire qualche azione, siamo arrivati spesso e volentieri sotto porta senza concretizzare, abbiamo subito il secondo gol. E lì, ovviamente, la partita è finita. Sì, soffriamo, nel calcio si soffre sempre, non ci sono partite facili, ha maggior ragione con un Zamorro Marchesato che forse qualcuno ancora ha le idee confuse pensando che fosse quella del girone andata. Questa è tutt'altra squadra che dimostrerà in questo proseguo di che passa è fatta. Oggi ho visto il Zamorro Marchesato, voglio parlare prima degli avversari, prima di parlare da noi, perché tutto è relativo. Che è una squadra tosta, difficile, che gioca bene e che soltanto oggi è uno sporting in gamba, seppur soffrendo, come dicevi tu, è riuscita ad avere la meglio. Ci sono stati momenti in cui abbiamo sofferto, ma perché temevamo e capivamo l'importanza di una vittoria. Avessimo chiuso la partita prima, ci saremmo sciolti e avremmo fatto tutt'altra partita. Però quando tieni sulla corda una partita 1-0 e sai che su un singolo episodio la puoi compromettere, subentra un po' di paura, visto l'importanza dei tre punti. Sì, lo sporting lo vedo bene, lo vedo sul pezzo. Noi venivamo da una settimana in cui abbiamo fatto la sosta e non è mai facile riavere un approccio subito pronti. Ciononostante, i ragazzi hanno risposto benissimo. È una vittoria che sicuramente ci conferma in questa griglia play-off e ci afferma e questo ci fa ben sperare. Da qui in poi ogni punto, non solo questi tre punti, sarà d'oro. E vediamo un po' che passo riusciamo a mantenere e quale posizione possiamo ambire. Ancora è presto, a me interessa che ogni partita venga vissuto dai ragazzi come uno spareggio perché ne vale la soddisfazione di questi ragazzi che lo meritano. Andrea Canino rappresenta un top player, l'ho detto più di una volta e lo dico veramente. È tra i giocatori più forti che io ho mai visto da vicino e si conferma non solo con il gol. Però attenzione, i gol non sono l'unico parametro per valutare un giocatore. Ci sono altri giocatori che possibilmente non segnano ma dimostrano il proprio valore. Ad esempio Giglio conosciamo tutti che deve essere un bomber. Oggi non è andato al gol, però ha fatto una prestazione generosissima e molto spesso dietro il gol degli altri si nasconde il proprio zambino. Ma voglio dire, anche la difesa, non ricordiamo che questa squadra non subisce gol, non so se è da 5 o 6 partite. Ciò significa una solidità difensiva e un senso di sacrificio enorme di tutta la squadra. Grazie e complimenti a tutto lo sport in Catanzaro Lido, ai nostri tifosi e speriamo di cavalcare l'onda. Grazie a tutti.